Domenico Russo ha terminato il suo raduno a Cascia con la Federazione Italiana di Scherma. Il giovane sciabolatore irpino allenato da Carmelo Albino ha preso parte all'incontro nazionale dei migliori schermitori dello stivale per la categoria cadetti. Allenamento blindato per gli azzurrini nella cittadina di Santa Rita. Gli atleti hanno dovuto attenersi ad un programma rigido per la prevenzione anti-covid. Tutti gli azzurrini prima della partenza hanno dovuto effettuare il test con tampone rapido nella propria città ed inviare i risultati allo staff medico della federazione. Insieme a tutta la documentazione sanitaria, gli atleti inoltre sono stati obbligati a soggiornare in camera singola fino all'effettuazione di un secondo tampone fatto dai medici della federazione. Soltanto dopo l'esito negativo dei tamponi e dall'accertamento che la documentazione sanitaria fosse in regola, i ragazzi hanno potuto incontrarsi rispettando tutte le misure restrittive per iniziare gli allenamenti. Domenico Russo non svolgeva allenamenti tecnici in presenza dal mese di ottobre, ovvero da quanto è stato impedito alla Porigi Mavellino di poter utilizzare la propria palestra all'interno del liceo sportivo, al contrario degli altri azzurrini convocati che invece nelle proprie palestre si sono regolarmente allenati. Anche se penalizzato da questo deficit, Domenico ha comunque dimostrato le sue ottime qualità tecniche rispondendo in modo soddisfacente alle richieste del CT della nazionale giovanile l'olimpionico Gigi Tarantino che ha invitato l'atleta Irpino a continuare ad allenarsi a Napoli in attesa della riapertura della palestra di Avellino.